Buongiorno, mesi amici, vi sono mancata? Dovete scusarmi per l'assenza, mi chuchu, ma ho avuto molti impegni. Non siete arrabbiati, vero? Bien, dovete sapere che oggi è l'anniversario di Eleonora XII. Oui, compierebbe 158 anni, eppure ancora si ricorda la sua arte. Ancora ne parliamo. Esattamente un secolo fa, dopo che ebbe abbandonato il teatro per sempre, la Duse produsse e interpretò il suo primo film, per la regia di Febbo Mari e di Arturo Ambrosio. Stiamo parlando di Scenere, tratto dal romanzo omonimo del premio Nobel Grazia dell'Eda, pubblicato nel 1904. Riguardando quei 37 minuti di film muto, ci si sente di fronte a un pezzo della storia del cinema italiano. Non è la tecnica a rapire, insomma, non si può considerare innovativo per quell'epoca. Solo un anno prima, Griffith metteva a punto, nel film Nascita di una nazione, il cosiddetto linguaggio narrativo, reso possibile dalla tecnica di montaggio analitico. Mentre nel 1914, due anni prima, Pastore realizza Cabiria, il primo colossal cinematografico, proiettato addirittura alla Casa Bianca per la sua importanza tecnica, tra le quali spicca l'uso del carrello. Insomma, mes amici, Scenere non si può annoverare tra i film indimenticabili per la tecnica sperimentale, ma per quei luoghi selvaggi della Sardegna, per quei simboli intorno a cui ruota la narrazione, per il messaggio di drammatico amore madre e figlio. Ma soprattutto per l'interpretazione della quasi sessantenne Eleonora Duse, che da sola regge interamente le scene, dando un senso anche alla mimica degli altri personaggi ancora troppo teatrali per il cinema. La Duse non ne sarà contenta, ma non rimedierà con un altro film. E forse, anche per questo, Scenere rimane la sua testimonianza di arts drammatica, per noi, per i posteri, insomma. Rosalia e Anania sono i due piatti di una bilancia che non si appiana mai. Quando uno subisce l'ingiustizia del figlio illegittimo da parte del mondo, l'altra gliene infligge una peggiore, l'abbandono per il suo bene. Ma lo infligge più a se stessa, come ben si può immaginare, e lo accoglie di nuovo adulto e rabbioso. Ma un'altra donna non accetta il ricongiungimento dei due, è la moglie Margherita. Così Anania rifiuta prima la madre, poi la moglie, rimanendo solo e infine orfano, dopo che la madre si toglie la vita per questo presunto bene, che poco ha a che fare con quello reale. Questo film può essere una grande riflessione sul non detto, così ben metaforizzato dall'audio ancora assente nelle pellicole. In fondo, mes amici, tutto è genere, la vita, l'uomo, la morte, il destino. Buon anniversario Eleonora, e a voi buon vision. A la prossima volta.